Nel silenzio del Capozza termina 0-0 l'incrocio tutto pogliese tra Casarano e Molfetta, un punto che serve alla squadra di Mister Bartoli per muovere la classifica in ottica salvezza. Niente da fare invece per il Casarano che vede il Barletta scappare al quarto posto. La prima emozione la regala Strambelli che con il mancino sfiora il palo. Sempre il numero 10 alla mezz'ora trova lo spazio giusto per servire Borzio ma il colpo di testa del centro avanti non trova la porta. In una prima frazione avara di emozioni le squadre guadagnano la via degli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa il Casarano prova a spingere sull'acceleratore ma senza pungere e il solito Strambelli a provarci al 64esimo. Crispino si limita a controllare con lo sguardo. Al 70esimo invece è il Molfetta a rimanere in 10 per l'espulsione di Cianciaruso. Il forcing finale dei padroni di casa non basta. Casarano e Molfetta dividono la posta in palio.